buongiorno vi garantisco che è giorno anche se più o meno l'ambientazione è simile a quella ieri ma la vedete la luce lì no quindi ecco siamo in luce il problema è che appena apro la portiera entrano 212 zanzare al minuto perché per essere agosto non fa poi caldissimo ecco di soltanto in agosto erano abituati i 35 36 gradi 30 31 in agosto è una temperatura sopportabile insomma vediamo e speriamo di andare avanti così anche no direi anche no va bene perché il tempo deve fare il suo corso normale normale il tempo della juve quale corso farà allora giuntoli che si è espresso margine del premio manlio scopino sto appunto combattendo con una zanzara ha detto che il progetto riguarda esclusivamente o meglio sicuramente riguarda la champions però 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 ecco quindi evidentemente c'è una stessa linea tra società e allenatore per cui la qualificazione in champions è vista come una priorità assoluta e lo capisco dato appunto l'introito perché poi tra l'altro sarà la nuova champions quella che porterà ulteriori guadagni e quella che la traghetterà probabilmente verso una superlega perché si farà io resto sempre l'idea che la superlega si farà si farà si chiamerà in un'altra maniera ma si andrà in quella direzione ne sono prettamente convinto magari con contenuti più meritocratici ma si farà e poi ha detto al giuntoli stiamo esprimendo un buon calcio e qua apriti cielo apriti cielo naturalmente perché cos'è il buon calcio è il buon calcio è un calcio che ti porta dei risultati ma magari ti fa anche divertire un pochino allora io ero guardato la fiorentina contro il napoli a parte che un attimo è napoli che ha fior fior di campioni eccetera è a tre punti dalla juve è a tre punti dalla juve ok e già si parla di crisi no così come adesso naturalmente anche in zaghi è tornato ad essere un incapace uno che non sa fare le formazioni che non sa valorizzare i giocatori così ma era ovvio adesso se in zaghi tornerà prima in classifica tornerà ad essere il messia del calcio va bene comunque torniamo a bomba ho guardato la fiorentina che ha gli stessi punti della juve e che non ha lo stesso potenziale di squadra della juve ma che attraverso appunto il gioco attraverso le idee attraverso l'organizzazione è arrivata ad avere gli stessi punti della juventus ok la juventus agli stessi leggendo la situazione da parte della juve la juve agli stessi punti della fiorentina giocando tra virgolette in maniera completamente diversa cioè senza quell'organizzazione che si vede appunto nella formazione italiana questo vi permette di affrontare il tema che scaturisce dall'intervista molto interessante che ha rilasciato per guardiola che in italia in questi giorni e che portando l'esempio di allegri e de zerbi in questo caso dice hanno una differente filosofia ma l'obiettivo è solo vincere cioè non esiste che tu vai in campo per divertire gli altri ma in campo per vincere poi si tratta di interpretare il modo per arrivare a vincere ok ma l'obiettivo è sempre quello lì e l'altra cosa interessante dice che la tecnica individuale non va separata dalla tattica ma la tattica altra frase molto interessante non serve a soddisfare il gusto dell'estetica quindi siamo sempre lì a far divertire la gente guarda ma serve a far capire la squadra che si va tutti nella medesima direzione perché naturalmente una squadra che ha un'organizzazione tattica consente la contemporanea partecipazione di tutti i giocatori all'azione chi ha il movimento senza palla chi ha il movimento con la palla chi deve ricevere il pallone chi lo deve passare questo è quello che intende naturalmente per guardiola e la trovo una frase posso dirlo paradigmatica del segreto del suo successo perché lui ha ottimi giocatori ha sempre avuto ottimi giocatori bisogna anche dire questo ha vinto tanto ma perché ha sempre avuto ottimi giocatori eccomi scusatemi l'interruzione riapriamo la portiera e ricreiamo un attimo luce dicevo a dono del vero bisogna riconoscere che guardiola ha sempre avuto degli ottimi giocatori in tutte le squadre in cui ha allenato però è stato capace di dare a loro una organizzazione di squadra quindi i due aspetti si possono coniugare e se si possono coniugare tra giocatori tutti di levatura diciamo così sopra la media la tattica diventa a questo punto un valore aggiunto se tu hai una squadra di giocatori al di sotto diciamo della media o comunque pochi giocatori forti altri normali la tattica sopperisce alla mancanza di tecnica quindi la tattica è sempre importante l'organizzazione di gioco è sempre importante perché senza organizzazione di gioco fai fatica ad ottenere continuità di risultati continuità di risultati a meno che non ci sia un gap tale tra la tua squadra e quelle che ti seguono ti inseguono che ti puoi permettere effettivamente di vincere le partite anche uno zero perché tanto poi è una difesa che è invalicabile e di non soffrire praticamente mai durante le partite o ben poco durante le partite questa juve ha bisogno di organizzazione è stato un po il tema del servizio che ho fatto oggi alle 13 su sport mediaset e nel quale dico è vero guarda caso da quando allegri ha abbandonato l'idea della verticalizzazione dell'aggressione sul portatore di palla eccetera ed è successo dopo sassuolo la juve non ha più beccato un gol ha fatto sette punti in tre partite è vero è un dato di fatto ecco il ritorno all'antico non ha più preso un gol la juve benissimo ma non può durare a lungo questa situazione a mio modestissimo parere non può durare a lungo perché poi se ti devi confrontare anche con avversari più forti devi un pochino cambiare cioè io voglio pensare che se a san siro contro il milan vai a chiuderti può giocare solo di ripartenza rischi di farti del male secondo me a san siro ci dovrà essere poi ne parleremo al momento di avvicinarci a quella partita ci dovrà essere una juve stile udine ovviamente senza prendere 14 tiri per la propria porta o verso la propria porta non nella verso la propria porta con una juve stile lazio ecco perché se vai lì a fare la juve col toro che hai fatto col toro che hai fatto vedere col toro rischi fortemente perché dai 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 e poi il gol rischi veramente di prenderlo quindi ok va benissimo va benissimo per gli esteti no comunque per la classifica sì però come ha detto allegri e voglio credere a quello che ha detto ci stiamo lavorando ci vuole pazienza probabilmente in questo momento non si fida del tutto teme che giocando in maniera così non dico spregiudicata ma comunque rivolto in avanti specialmente i minuti iniziali tutti esponga troppo a ripartenza contropiedi eccetera non si fida al cento per cento però ha detto che ci sta lavorando e voglio fidarmi del fatto che lo stia dicendo e che sia quello che sta dicendo risponde al vero cioè che si rivedrà prima o poi la juve che era riuscita a coniugare risultati e organizzazione di gioco ok questo è quello che mi voglio aspettare dal futuro ci sarebbero tante altre cose di cui parlare della verità quest'oggi però magari me le tengo per il video di questa sera così come gli aggiornamenti sulla questione proba aggiornamenti c'è questo discorso del dea che effettivamente è una sostanza proibita a correzione quello che ha detto ieri addirittura c'è il rovescio della medaglia se non se la gioca bene la difesa di proba diventa passibile addirittura di un annuncia penale da parte la stessa juventus perché avrebbe importato questi questa sostanza illegalmente nei giorni precedenti la partita colubinese attenzione perché bisogna camminare proprio sulle uova in questo caso qua bisogna stare molto attenti ecco perché prima di parlarne leggo quello che dicono gli esperti di materia adesso magari non montiamo su un caso internazionale o un caso mediatico sconvolgente però cerchiamo di attenerci a quelli che possono essere effettivamente i risvolti di questa vicenda iscrivetevi al canale ci vediamo questa sera